Io sono positivo? No, io penso positivo, perché se sono positivo non si avvicina a nessuno. Oggi ero per caso qua a Roma, anzi al centro, e di conseguenza se no non sarei venuto apposta a farlo o no. La gente, a parte questo momento, non è che l'ho vista, devo essere sincero, ma neanche qua in Via del Corso. Quando c'è il Covid, non avete paura degli assembramenti? No, è pochissima gente, l'anno scorso era pieno la piazza, quindi quest'anno va bene così. Beh, siamo pure all'aperto però, se fossimo stato al chiuso era peggio. Un, due, tre, go. Gravati, gravati, gravati. Gravati, gravati. Gravati. Grazie a tutti. Osservare sempre il distanziamento sociale, quello è importante. C'era forse un pizzico di assembramento, abbiamo cercato di essere bravi. Perché sto qua? Perché oggi è un giorno importante. È l'Immacolata, l'8 dicembre, praticamente per dare un po' di gioia a tutti quanti che ti aspettano il 24, ma il 24 la voglia arrivare, allora gli diamo un po' di gioia. Io sono positivo? No, io penso positivo, perché se sono positivo non si avvicina a nessuno. Ciao a tutti, a disposizione. Buon Natale a tutti. Vado, vi torno. Vado, vado, vado. Vado, vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado.